I calciatori della Salernitana Calcio 1919 S.P.A. in merito agli ultimi colloqui avuti con il presidente Antonio Lombardi da parte di una loro delegazione comunicano quanto segue. Il presidente nelle pregresse settimane aveva rassicurato i calciatori desserati promettendo di adempiere il pagamento degli stipendi entro il 3 marzo 2011, mentre duole constatare come tutt'oggi la Salernitana Calcio 1919 S.P.A. non abbia provveduto al completo onere previsto. La situazione è sotto gli occhi di tutti e si è resa insostenibile. I calciatori non sono più disposti ad attendere inerti il destino della società e le promesse del presidente che fino ad oggi non sono state seguite dalla volontà di venire incontro agli impegni presi. Se fino ad oggi la squadra è rimasta compatta, nonostante le evidenti difficoltà economiche che si portaggono dalla passata stagione, lo si deve esclusivamente alla doverosa e incondizionata professionalità di ogni singolo calciatore che ha mantenuto immutati gli obiettivi prefissati all'inizio stagione. Tra l'altro, nei mesi di giugno e novembre 2010, gli stessi calciatori hanno dimostrato concretamente di voler aiutare il presidente nella risoluzione dei problemi, senza oggi ricevere di contro il dovuto rispetto. Ogni singolo calciatore, doni in avanti, provvederà a tutelare i propri interessi come riterrà opportuno, percorrendo ogni possibile azione individuale per ottenere quanto di ragione nei confronti di una società che non si è dimostrata assolutamente all'altezza e alle aspettative della sua tifoseria. Grazie.